Pesca 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 Vaya Pesca Pesca long Ti sembra soltanto un accordo da spiegare Tutti vogliono tutto per poi accorgersi Niente Noi non faremo come l'altra gente Questi sono e resteranno per sempre I migliori anni della nostra vita I migliori anni della nostra vita Stringimi forte che nessuna notte è infinita I migliori anni della nostra vita Stringimi forte che nessuna notte è finita I migliori anni della nostra vita I migliori anni della nostra vita Che non ci siamo mai E che tutta quella tristezza In realtà non è mai finita I migliori anni della nostra vita I migliori anni della nostra vita Stringimi forte che nessuna notte è finita I migliori anni della nostra vita Stringimi forte che nessuna notte è finita I migliori anni della nostra vita I migliori anni della nostra vita Qui dove il mare luccica E tira forte il vento Su una vecchia terrazza Davanti al golfo di Sudietto Un uomo abbraccia una ragazza Dopo che aveva pianto Poi si schiarisce la voce E ricomincia il canto E poi da te E poi da te E poi da te E poi da te Ancora in te male Vide le luci in mezzo al mare Pensò alle notti in America Ma erano solo le lampare E la bianca scia di America Sentì il dolore nella musica Si alzò dal pianoforte Ma quando vide la luna uscire da una nuvola Gli sembrò dolce anche la morte Guardò negli occhi la ragazza Quegli occhi verdi come il mare E poi all'improvviso uscì una lacrima E lui credete di affogare Che voglio che ne stai Ma quando vide la luna uscire da una nuvola Che voglio che ne stai Quanti a mezz' 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 Ho della sua fondazione, che è l'aiuto e il beneficio che può generare questa opera, derivandolo a le fondazioni e le entidades che collaborano immediatamente con i nostri o persone discapacitabili. Nomé recordare, questo sì, questo principio di solidarietà che vi chiede, e che vi ci sono un'adguiscizione di queste bibliografie che trasferim la norma del mercat vell, in questo caso è una opera benéfica che si possono comprare qui stesso, e che trasferim la norma perché sapete che nel mercat vell non es poten exposare obri, per tant, sono exposicioni di requerimento in questa exposizione. Bé, res a més, in questo caso agrair al senyor Bartolomé questa intesa che ho avuto durante tanto tempo, ovviamente io ho ho pensato molto bene che ha un'obra del pintor, perché te n'adones che al darrere di ogni obra, di ogni quadro c'è una storia, e queste storie moltes vegades sono le che ci ajudano a entendre perché in questo caso non c'è un altro. E anche a l'Ave Maria per la sua assistenza qui vi ho volgi dir i desitjar che hi hagi molse mani che es potagi invertì in questi projecti. Moltes gràcies. Grazie a tutti